Sono Marta Ferri, mi occupo di tutta la scelta tessuti molteni e quest'anno presentiamo The Steading Closet by Marta Ferri for Molten&See. La collaborazione Molteni nasce l'anno scorso, è nata con una collezione ispirata alla natura, il suo nome era Gea, Terra. L'esigenza per me era scaldare un mondo che per me era ancora lontano. Ci sono colori della natura, colori caldi, ci sono colori pastello, ci sono colori anche forti, grintosi. Nella collezione nuova la matericità è fortissima, però la forza del tessuto, l'intensità del tessuto si è vista prima e si vedrà molto anche nella collezione prossima. Nel caso della Steading Closet per gli armadi Molteni, a quel punto era più tempo che ero in questa avventura e ho iniziato a vedere Molteni in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue stanze. Quando arrivavo nel closet sentivo che lo volevo più mio, volevo trovare il modo per immedesimarmi di più, quindi per riuscire a immaginarmelo in casa, sempre. Quindi per portarlo a casa dovevo riempirlo. E per riempirlo i colori, i materiali che ho scelto sono coerenti, sono parte della collezione. Molti funzionano sia nell'abbigliamento che nell'arredamento. Il tessuto deve essere piacevole, deve essere piacevole al tatto, deve essere sicuramente resistente. C'è tutto un super team del controllo qualità che poi corregge il mio percorso, però se è un tessuto che mi avvolge e che riesco a vederlo a casa, vuol dire che può essere. Quest'anno ho portato Molteni a casa, in questo caso Vincent van Doizen con il suo divano. È una bella combinazione, divano di Vincent con il tessuto di Martha.